ore di apprezzione questa mattina per la scomparsa di una donna di cui non si hanno avuto più notizie da domenica mattina l'anziana 75 anni ed residente nel comune di agropoli incontrata difese la donna quando si è allontanata da casa ha portato con sé una cifra di denaro ed il suo cane un cucciolo di pastore maremano bianco le operazioni di ricerca sono andate avanti fino alla serata di ieri poi interrotte a causa della pioggia sul posto i carabinieri della locale stazione i vigili urbani i caschi rossi del distaccamento di agropoli volontari del gruppo comunale della protezione civile città di agropoli che hanno ripreso le ricerche questa mattina l'anziana indossava una maglia rosa e un giubbino bianco i militari della locale stazione dei carabinieri hanno visionato anche i filmati delle videocamere poste presso la stazione ferroviaria agropolese e quelle presso la stazione degli autobus secondo le informazioni fornite la donna era uscita di casa domenica mattina di lei però non si è saputo più nulla la scomparsa è stata denunciata alla compagnia dei carabinieri di agropoli che ha comunicato il tutto alla prefettura che ha attivato il piano provinciale ricerche persone scomparse grazie al grande impegno dei volontari e dei militari impegnati per le ricerche della donna tutto è andato per il meglio l'anziana è stata ritrovata al confine del suo terreno di proprietà